Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ti voglio chiedere di due tuoi compagni di squadra, due tuoi ex anche compagni di squadra. Il primo è quanto sei sorpreso da questo ambientamento istantaneo di Nuno Tavares e quanto manca secondo te a Gigo per essere pronto per il suo esordio? C'è vero che ho avuto durante più di una settimana con Samuel Gigo e Nuno Tavares a Marseille. Come ho detto prima che Nuno signale a Lazio, ho detto che sarà l'un dei migliori laterali di questo campionato. E io continuo di le dire perché è un giocatore che ha veramente molto qualità, che ci apporte molto. C'è un giocatore molto importante per noi. C'è un giocatore che fa parte dei migliori a suo posto in Europa. Samuel Gigo aveva un piccolo problema di blessura, ma è venuta con il gruppo. C'è un giocatore che va fare molto bene, perché ha la mentalità di voglio farciare. Il fa molto bene defensivamente, non ha paura di sortire sui giocatori e ha molta esperienza. C'è un giocatore che va anche molto aiutare nella fase defensiva. Come ho detto, sono due giocatori molto importanti per la Lazio. E ci hanno veramente rinforzato per avere una migliore equipe. Allora, secondo me sono due giocatori molto importanti per la Lazio. Ci hanno rinforzato per rendere migliori la nostra squadra. Io ho giocato con loro più di una stagione a Marsiglia. Nuno, l'avevo detto che secondo me era uno dei migliori laterali. Ci porta molta qualità davvero, ha già fatto quattro assist. E secondo me è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Per quanto riguarda Gigo, è arrivato che non era nelle migliori condizioni fisiche. Era infortunato, però ritornerà presto. Ci farà sicuramente bene la sua esperienza, il suo vigore nella fase difensiva. Di là, Facini. Ciao Matteo. Dall'arrivo del mister state segnando tanto, ma ora comincia una nuova fase. A frontere delle migliori difese d'Europa, l'Empoli e la Juventus. Anche il Nizza prende pochissimi gol. Ti chiedo quanto è importante per blindare la difesa incrementare i numeri del possesso palla, tenere di più la palla, che a Torino vi è riuscito molto bene nel primo tempo, meno nel secondo. E poi, dato che la Lazio ha giocato tantissime edizioni di questa competizione e soprattutto è stata inserita in prima fascia, sentite come dovere il fatto di arrivare tra le prime otto di questa competizione? Grazie. 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 Grazie a questa fase di Ligua Europa. E' ovviamente che io penso che abbiamo una squadra per andare molto più in questa competizione. È una competizione molto difficile. Ho già già giùi più volte, ho già 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 già, sono all'eo in finale con Arsenal in Ligua Europa. C'è una compagnia difficile, ma anche abbiamo un buon staff, abbiamo una bella equipe per andare in questa compagnia. Ho una enorme confianza in la mia equipe e io so che se continuano ad applicare le consigli del coach e continuano di progressare come si lo faccio oggi, possiamo andare in questa compagnia. C'était la prima domanda? Tu vienes per la migliore défense d'Europa. Par rapporto a Nice, c'è una equipe che è molto solide, ha dei buoni giocatori. Io conosco molto bene il loro coach franquese, con cui io conosco l'OFC Lorient, in centro di formazione. C'è un'entraineur che mette molta intensità, che attende molto di questi giocatori, che ha sempre fatto dei buoni risultati con queste equipe come l'Anse le settimane. sono passate, quindi mi chiedo davvero a un match difficile, ma bisogna continuare a giocare come abbiamo fatto in questi ultimi anni. E come ho detto, d'abord si concentrere su noi, prima di concentrere su Nice o la Juventus, e d'abord di pensare a noi. Allora, partiamo dalla parte che riguarda dove possiamo arrivare in Europa League. Bene, possiamo andare lontano. È una competizione difficile, io l'ho giocata diverse volte, sono arrivato anche in finale con l'Arsenal, però abbiamo una buona squadra, un ottimo staff, io ho fiducia in loro, e se applichiamo le indicazioni del mister, possiamo sicuramente arrivare lontano. Per quanto riguarda il Nizza che affronteremo domani, io so che hanno una difesa solida, poi conosco bene il loro allenatore, Franches, ero al centro di formazione a Lorient, quando c'era anche lui, ed è un allenatore che chiede alle sue squadre molta intensità. Ha fatto bene l'anno scorso a Lance e continua quest'anno a Nizza. Ma noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi. Catina. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Io volevo chiederti una cosa riguardo le tue motivazioni, nel senso che il Nizza è una squadra che tu hai conosciuto già al Marsiglia, ma dove sei stato anche al centro di una partita molto accesa, molto particolare, con la tifoseria del Nizza. Quindi se per te questo può essere un derby nel derby, non solo a livello di averli già incontrati, di nazionalità, ma anche se quella partita la ricordi ancora, perché fu una partita veramente, veramente fuori dal mondo. Quindi se è un modo per caricarti ancora di più, oltre alla carica, ti darà chiaramente Mr. Baroni. Grazie. Com'è possibile che sia ancora sconosciuto il metodo che con un telefono e 5 ore a settimana... ...per te Mr. Baroni. Grazie. Non, c'è vero che c'è un match un po' speciale, già per quando tutti i francesi gioi a l'estranger, sono sempre felice di trovare una equipe francese, ma c'è sicuro che il match contre Nizza è un match un po' speciale, perché essendo un ancien jouore dell'Olympia di Marseille, c'è sempre stato un match con molta intensità, un match che è stato molto importante anche per l'ancien club. Quindi, oggi sono a la Lazio, penso a la Lazio, è un match come a gioi a Empoli sul weekend, quindi, non importa l'equipe contro chi è gioi, ci sarà solo di concentrare su noi mesi, di applicare le consigli del coach, e io ho saputo molto bene quello che faccio sul terreno, e non importa l'equipe contro chi è gioi, ci sarà di concentrare su noi mesi, applicare ciò che facciamo a l'entrannamento, e non importa l'equipe che ci sono in fronte, ci sarà di gioiare un buon fottobolo il più importante. Allora, beh, sì, è un match speciale, lo è per un francese che gioca all'estero trovare una squadra francese. Contro l'inizio è ancora più speciale in realtà, perché quando ci giochiamo contro il Marsiglia, è sempre un match molto intenso, è molto considerato, è molto importante. Però io oggi penso soltanto alla Lazio, quindi non importa chi abbiamo davanti, l'importante è concentrarci su di noi e rispettare le consegne che ci dà il mister. Dobbiamo essere veloci, Sticozzi, prego. Matteo, buonasera. Volevo chiederti, vista da dentro, hai la sensazione che questa Lazio sia più forte della squadra in cui hai giocato lo scorso anno? C'è una squadra totalmente differente da la settimana, abbiamo un nuovo coach, con una filosofia di gioia che è diversa da i coach che ho conosciuto la settimana. Abbiamo dei nuovi giocatori, quindi forsemmo tutto è diverso per rapporto alla settimana. La squadra è una squadra della settimana, è una squadra completamente differente da la settimana, ma io credo molto in questa squadra, io so che potremo ottenere i nostri obiettivi se continuiamo a lavorare come stiamo facendo in questo momento. Ho veramente molto esplorato in questa squadra e ho una forte croyance senza che noi possiamo fare una superpa sezione. Beh, quest'anno una squadra è diversa, la filosofia di gioco è nuova, ci sono tanti giocatori nuovi, il mister è nuovo, è tutto diverso. Giudicheremo poi dalla classifica e dagli obiettivi raggiunti, ma io sono molto contento di essere qui con questo super coach, esattamente quello che ha detto, di progredire, che ci aiuta a progredire individualmente e collettivamente. Io penso che abbiamo degli ottimi giocatori, possiamo fare una bella stagione e ho molta speranza che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. L'ultimo flash è Castellano, prego. Ciao Matteo, tu sei un leader tecnico, carismatico, in campo, si vede anche quando giochi, ma il tuo obiettivo è anche quello di diventare capitano di questa Lazio, un punto fermo anche con la fascia al braccio e che poi ti possa portare più avanti, anche dopo l'addio di Griezmann, a essere un punto fermo anche nella nazionale francese. Grazie. Grazie a tutti. Io credo che abbiamo alcuni capitani che sono molto importanti per noi, con molta esperienza. Ma siamo tutti iniziati a parlare prima le match, dopo le match, dopo le match. C'è ciò che fa anche la forza di nostra equipe. Non c'è ciò che fa anche la forza di un altro. C'è ciò che fa anche la forza di noi. Quindi, come ho detto, il più importante è di restare io-même, di poterare molto a questa equipe. Perché io so che posso aiutare molto questo club. E c'è una questione per la nationalità? L'effetto di avere queste responsabilità può finire a essere il capitano una volta che Griezmann sarà... Non, la più importante è di essere molto bene al club. E poi ciò che vedremo per la selezione. Ma come ho detto, prima di andare in selezione, bisogna essere molto bene con la Lazio. Bene, per me l'importante è di restare al mio posto. Io so dove sto in questo momento e so quello che posso fare per la squadra ed è tanto. So che devo dare sempre il meglio. Poi abbiamo già molti giocatori e capitani importanti che hanno esperienza. Noi l'importante è che ci parliamo molto e questo ci dà la forza. Non c'è nessuno che è al di sopra degli altri. Per quanto riguarda la nazionale, bene. Io quello che voglio fare è fare bene per la mia squadra di club e poi il nazionale. Chiusura, Beccarisi, prego. Sì, ciao Matteo, buon pomeriggio. Ritorno alla partita di domenica perché forse lì abbiamo visto quello che è l'ultimo step che ti può far crescere ancora di più anche a livello internazionale, quel riempire l'area di rigore che chiede tanto anche il mister. È quello su cui state lavorando ed è quello l'aspetto che ti può far diventare un giocatore ancora più importante a livello internazionale. Grazie. C'è un obiettivo che ho in mente, di essere molto più forte nei 30 ultimi metri. Perché mi arriva molto volte in un match di me ritrovare in una posizione di fare la ultima passata, di fare la ultima passata o di fare il ultimo butto. C'è qualcosa di cui ho cercato di lavorare. Ovviamente, se i miei attaccanti possono marcare molto più di butto, è il più importante. C'è un obiettivo che ho in mente, di marcare molto più di butto con la Lazio, di essere molto più decisivo. Ma io so anche che il coach attende qualcosa di me. E io so dove sono sul terreno, non è la mia priorità di marcare. Ma io so che è un domenio in cui sto lavorando e in cui voglio essere migliore all'interno del tempo. Bene, bene, mi capita spesso di essere decisivo negli ultimi 30 metri. Mi succede di fare assist o fare anche gol. Io ci sto lavorando. Chiaramente l'importante è che gli attaccanti segnino di più e che la squadra segni di più. Però ho anche messo come obiettivo quello di essere decisivo per questa squadra. Anche se il coach in realtà si aspetta cose diverse da me. Per cui non è comunque la mia priorità. Grazie a voi per la presenza, grazie a chi ci ha seguito in questo caso live. Grazie al tecnico Marco Baroni e al centrocampista della Lazio Matteo Gendusi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.